Ma che buon taglio i gnocchi con i funghi, è un delizioso e semplice primo piatto cremoso e pronto in pochi minuti. Pulite i funghi, lavateli e tagliatele a fettine. Versate in una padella lo spicchio d'aglio infilzato in uno stecchino. Aggiungete i funghi a fette, spolverate con del prezzemolo tritato, un pizzico di sale e dell'olio e fate cuocere per 15 minuti. Quando saranno cotti eliminate lo stecchino con l'aglio. Nel frattempo versate dell'acqua in una pentola, mettete sul fuoco e quando inizia a bollire aggiungete il sale. Versate gli gnocchi, quando salgono a galla sono cotti, raccoglieteli e tenete da parte. Versate nella padella con i funghi il formaggio spalmabile e stemperatelo con un mestolo di acqua di cottura degli gnocchi. Quando il formaggio sarà cremoso aggiungete gli gnocchi precedentemente cotti, spolverate con del prezzemolo tritato e se lo gradite aggiungete del formaggio grattugiato. Serviteli ben caldi e super cremosi. Avete visto come sono facili? E se l'ho fatto io, lo puoi fare anche tu.